Padrenzo, sul cammino, come francescani del Sacro Convento, avete proprio deciso di dedicare un anno di riflessione. Sì, homo viator, sentirsi in cammino, la proposta che questa comunità francescana fa a tutti i pellegrini che raggiungono Assisi, proprio perché sentirsi in cammino significa anche persone che crescono, persone che crescono soprattutto, vorrei dire, in altezza, perché molti di noi sono affollati, soffocati dalla sofferenza e quando c'è tanta sofferenza abbiamo una possibilità, abbiamo la possibilità di crescere e camminare in altezza, raggiungere le alture che sono le alture di Dio.